Buongiorno, io sono, ho scoperto la città di Viterbo da poco, però penso che ci vorrà una delibera comunale per mandarmi via. Io mi trovo benissimo, sono alla Quercia, ospite alla Quercia, ma devo dire che la città di Viterbo è stata anche molto utile da un punto di vista dell'ispirazione, perché io avevo, dovevo mettere a punto delle cose di un libro che sto scrivendo, che ho finito di scrivere, ma che avevo un finale che doveva essere sistemato e qui ho trovato il finale giusto. E secondo, non meno importante, soprattutto da un punto di vista del personaggio, ho avuto modo qui di perfezionare, ogni tanto mi sentono delirare nei refettori della Quercia, perché io ho un destino a cui non riesco a sfuggire, perché Bersani, se voi digitate Ferrini, a quarta voce o terza, mentre le prime cinque di Google, Bersani ha addirittura e la Coriandoli, gemelli separati dalla Magica, non glielo so, neanche glielo abbia messo, però c'è sempre questa cosa qui. Quindi, detto questo, io sono ben felice di stare qua, perché qua, al di là che mi trovo benissimo con le persone, con altri miei cari, sono qui quelli accanto che vedete, ma mi trovo bene, sia come clima, che quello non ho bisogno, che ve lo dica io, ma proprio anche con un'ispirazione, quindi è difficilissimo. Io in Romagna non mi riesco a ispirare, perché la terra mi ha generato, però la Barahonda è nemica del mio modo di vedere la vacanza, io cerco rapporti più concreti, umani, invece di tutta quella basmata di, pare che ci sia quasi un morto al giorno per eccessi di alcoli, con Pagliabella, loro sono riusciti a fare, venire dal mondo le persone col mare che sembra una cosa di pinta, come qui. Il mare è finto, non c'è, però non si sa come sono riusciti a portare gente da Hamburgo, più o meno di 1.000 km, e vanno a fare le gite ai posti petroliteri. Quindi già questa è una vittoria. Però io non mi trovo benissimo e quindi mi trovo molto meglio qua. Detto questo io volevo fare una cosa. Noi come partito democratico, adesso posso dire, ci perdono tanti treni, noi abbiamo preso la freccia rossa della seconda. Non ci riusciamo a riprendere? O no? Non lo so. Mi ha eletto Presidente, Signor Dottor Segretario di questo Partito Democratico. Io chiedo a voi che siete esponenti politici, se mi hanno eletto ci sarà un motivo, se no non mi avevano eletto. O no? Non lo so. Ma hanno mandato qui, hanno detto, porti il tuo contributo della Romagna, dell'Emilia Romagna. Vabbè, non sarete intelligenti come gli altri, ma abbiamo tanta buona volontà. O no? Non lo so. Se lo sapete, siamo in una democrazia. Adesso, dato che siamo qui praticamente tra compagni, io posso parlare liberamente. Un consiglio, con le elezioni, noi per guadagnarsi i voti, ci buttiamo a destra sinistra, perché noi non abbiamo i leader. Noi ce l'avremmo un leader da imitare, però non so se è il caso o no. Il programma del settembre intermese ha ampiamente superato le mie più loro aspettative. Ma come potrebbe essere altrimenti? Viterbo è una città romana e ha dati natali. Tra gli altri ha una persona qui presente, che senza tema disidentita può essere definita un quadruvino e meritare l'appellativo di Araba. Grazie. 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 Provo, mi parla mia. Tanto per i molti già fa tutto. Non tutto. Ma il nostro partito, noi per esempio, questo qui, era già tutto deciso prima. Voi scusateci, qui c'è troppa libertà. Voi avete per esempio le persone che possono fare le riprese? No. si fa un'unica telecamera, si fa una ripresa unica, poi si tagliano quelle parti che non sono conformi e domani si manda un comunicato. Voi non dovete venire, state a casa. Vi si manda un comunicato con la delibera che è già stata approvata. Però queste porte chiuse, la signorina che passa, tutto è sbagliato. Questa libertà, non ci sono delle dirigie, nessun capito. Troppi liberi. Ora, non lo so. Dite voi. È una democrazia. Abbiamo sbagliato noi, diceva fare la rivoluzione quando era ora. Se no, lì ci vorrebbe una bella bastamata. Se sono finito, grazie. E quindi sta governando la cittadina. Un momento. Un momento. Un momento. È finito. È un basico. Non ci siamo avertiti. Di far farlo. O no. Non lo so. E quindi... Tu abbia sbagliato. Non lo so. Poca disciplina. Lì bisogna essere più disciplina, ci vorrebbe. Chi non vota PD, vengono presi nuovi. Chi non c'è. La Bulgaria è andata avanti. Sono compagni che ha sbagliato. In futuro, non sbagliato. Non sbagliato. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Credo che... È stato un piacere. Se mi sopportate ancora, guardate, ho visto benissimo. Grazie a voi. Questo segnale di... Capacità di interpretare la sua realtà, la sua storia professionale. ma vivere e dire e vivere e vivere bene credo che sia per noi un momento di grande rilevanza. Io dovevo restare qualche giorno e siamo già un mese e quasi 40 giorni. Questo credo che sia bello perché probabilmente si trova una realtà... Con caldo, eh. Con caldo. Con la sera non c'è. Però credo che in Emilia sicuramente tu già vai caldo e anche umido. Quindi su questo siamo sicuramente favoriti e quindi siamo contenti di dare la possibilità di intrattenersi nella nostra città e anche dargli gli spunti per il suo lavoro e la sua professione. Questo credo sia molto importante e provare quelle tranquillità che si possono trovare.